La difesa puntava al riesame per ottenere la scarcerazione o quantomeno i domiciliari con braccialetto elettronico, ma il ricorso è stato respinto e l'imprenditore Francesco Cosimo Barone, 53 anni di mattino, titolare dell'omonima ditta, resta in carcere con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, accusa mossa dalla Didia di Lecce nell'inchiesta chiamata fuori gioco sul gruppo ritenuto di stampo mafioso guidato da Pietro Soleti, 59 anni di Sandonaci. Il blitz della Guardia di Finanza risale al 29 settembre scorso. L'imprenditore, in occasione dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari, aveva respinto l'accusa mossa in relazione alla raccolta degli oli esausti dagli attività commerciali e ricettive alla presenza degli avvocati Lucia Longo e Pantaleo Cannoletta del Foro di Lecce. I penalisti a questo punto ricorreranno in Cassazione. L'indagato aveva negato di essersi a balzo del clan e aveva spiegato di aver assunto alle dipendenze della sua impresa alcuni autisti che in precedenza lavoravano per conto di ditte concorrenti e che per questo avevano già contatti con attività commerciali per la raccolta degli oli esausti autisti che venivano pagati con un fisso più le provvigioni. L'indagato aveva spiegato anche la circostanza relativa all'incontro in un ristorante di Porto Cesario agli inizi di settembre 2020, documentato dalla polizia giudiziaria al quale presero parte Pietro Soleti, Antonio Divigiano e Antonio Cagliandro, entrambi considerati uomini di Soleti. L'appuntamento, secondo l'accusa, sarebbe stato finalizzato a raggiungere un accordo tra Barone e il clan Soleti. L'imprenditore davanti al GIP aveva ammesso di aver chiesto l'incontro ad Antonio Divigiano per chiarire quanto stava accadendo, perché in quel periodo Cagliandro stava facendo alcuni dispetti alla sua impresa. In quella occasione gli avrebbe proposto un contratto di assunzione, non sapendo che si sarebbe presentato anche Soleti.